Il pareggio però del Cittadella ad inizio della ripresa con Di Nardo Dopo il tiro di Giannetti, respinto da Arcari Poi una bella storia, quella di Antonio Picci, lo scorso anno giocava in Serie D Nella Martina Franca, ora è idolo della tifoseria del Brescia Trova il gol del 2-1, tocca prima Caracciolo sull'assist di Corbia Picci dà due passi, esplode di gioia, accarezza i tre punti la squadra di casa Ma ancora, totò Di Nardo